musica allora ciao a tutti ciao allora abbiamo messo anche la telecamera quindi siamo degli incapaci è acceso la telecamera spero di sì spero vivamente che sia accesa aspetta che ecco subito ciao a tutti ragazzi allora io adesso dato che è andato a rispondere al telefono io uso il suo computer super figo per che cazzo è stato per per fare cosa fammi pensare che cazzo è stato faccio fare un giro per il nostro mondo perché così almeno diciamo cazzeggio totale no no cazzeggio totale no facciamo un giro per il mondo allora questo qui è un raggio come si può vedere ce ne sono anche di qua è tornato Raul forca puttana mi stavo divertendo adesso mi inchiappetto una pecora aspetta fammi provare fammi provare voglio troppo inchiappettarmi una pecora guarda guarda aspetta guarda guarda eh guarda 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 F5 F5 guarda eh guarda attento eh vieni qua pecorello shift non ci riesco vieni qui è un maschio la mia piccola pecora come fai a sapere eh sapessi vabbè tanto io sono armafrodite allora comunque la mia nonna che mi chiedeva se se l'avevo chiamata è vai da nel computer da sfigato allora dicevamo stavo facendo fare un giro per il mondo perché tantissimi mi hanno chiesto ma il vostro mondo com'è noi abbiamo subito iniziato a costruire quindi direi vieni qua al tappeto rosso vediamo al tappeto rosso no ma comunque in realtà noi non ci avevamo più voglia ovviamente di fare il video si ma che poi era diventava un casino incontrarci però dato per il vostro sostegno lo facciamo aspetta che schifo ho visto che tutti i nostri compagni di classe no molti 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 dai molti tutti quelli che hanno visto il video diciamo eh senti facciamo partiamo io ti seguo tanto sei tu che registri oh aspetta mi coglione ok ci sono e allora io spero di aver azzeccato più o meno l'inquadratura perché sinceramente se no se mi si toglie la testa scrivetelo nei commenti che Raul è un deficiente mi raccomando e presto faremo anche il video dei 25 iscritti perché siamo un casino e inviteremo quanto fa a cagare sto faro come lo dico io mi sa che lo dobbiamo tagliare ma fa proprio a cagare l'hai partito un po' alto e mi sei stato te no è troppo piccolo vabbè io continuo a fare la mia parte ah siamo un po' andati avanti in offline e comunque sì perché c'era bruttile palle e comunque e inviteremo il 25 iscritti a giocare a Minecraft che è quel fascista è lui no? sì sì è lui è quel fascista di merda che nel video scorso che cazzo è stato che nel video scorso abbiamo scritto appunto Michael che poi di fianco ho scritto che è eronico perché sennò si offende ma sto frocio e beh dai che c'è questo? sto registrando sì sto registrando scusami ma chi è che ha aperto qua? ma io ti spacco la faccia hai distrutto tutto no scherzo ma cosa dici? io non ho fatto niente forse sia stato io e lui comunque non sa giocare a Minecraft io? no lui ah è la gabbola ma è efficiente ma perché sto scendendo le scale? e quindi probabilmente sarà il solito il nubo ah ma noi quindi lo facciamo giocare a Minecraft sì lo facciamo giocare ma ti facciamo solo l'intervista no no non li facciamo solo l'intervista ora non sono l'unico che non sa giocare a Minecraft sì oh dimmi io direi ok la vedo il mio cane forse forse lo lo becca anche vedete quello è lilla saluta oh assoluta molto bene senti Raurino vieni un attimo anche l'audio dovrebbe essere abbastanza risolto per cosa ascolta un minuto dimmi io direi faccio i fari grandi qua cazzo faccio i fari grandi quanto cioè riempio di fari metto i fari al posto del vetro e quindi ingrandiamo un po' perché sai che ti dicevo prima che i fari sono in punta più grandi ma io non mi ricordo questa cosa vabbè fa cosa credi però non c'ho un cazzo di voglia io odio fare allora facciamo sì allora il faro dobbiamo finirlo dobbiamo finirlo 2 3 emil da quanti che registriamo perché dobbiamo fare più o meno tutti di un quarto d'ora perché sennò poi viene un casino 9 10 non lo so allora sono le 3 e un quarto da quanto sarà che registriamo 5 minuti 9 10 11 12 eh mi ho sbagliato porca putta sì facciamo che abbiamo cominciato le 3 e un quarto e adesso sono le 3 qualcosa quindi è un quarto qualcosa a mezza chiudiamo e anche se ne facciamo 5 o 6 di fila ne facciamo 5 o 6 di fila così passata la settimana siamo a posto sì così non scassate più il cazzo voi altri no scherzo dai che tolgo del like like la sotto iscrizione come chiamo iscrizione iscrizione io la chiamo sotto iscrizione no comunque se posso essere sincero il fan lo fa cagare beh a parte quello ma non pensavo di avere che avessimo che avessimo che avessimo avuto così tanto successo cioè no anche nel nostro piccolo della scuola comunque sì tutti erano allora emil emil non è come me 7 8 9 emil non è uno sfigato come me si vede anche da come siamo vestiti cioè guardate lui è un nerd di merda con i capelli lunghi e io cazzo io sono un tamarro ma di proprio con la cadestra mi faccio schifo da solo napoletano oh cos'hai con 3 terroni sai che cosa ho con 3 terroni cosa? niente niente perché anche i miei nonni comunque sono anche tu dei terroni praticamente anch'io sono in parte quindi oh ma sto preso oh ti sta a mordere per favore che ci ricordiamo già quando volevi giocare a minecraft minchia ti stavano per distruggere la tastiera no la sera è sull'inguassata un po' oh apri la porta magari se ne va fuori lo sa che ci mette di più a renderizzare il video vero? cosa vuol dire? a fare il video a produrlo non ho capito nulla mettendo la la registrazione anche della nostra bellissima faccina ci mette un casino di più a si? va bene guarda un po' più con la vociata che non so se si sente tanto se tu che lo fai il video si vabbè 2,3,4,5,6,7,8,9,10 più o meno sto facendo questa cosa che mi sa che è completamente inutile però vabbè 2,3,4,5,6,7,8 9 e comunque adesso Emil non lo sai non mi può pregarmi anche di meno perché lui non ci sarà ma ma presto faremo probabilmente anche il col fascista ma perché non potete invitare anche voi a giocare a FIFA? ma vuoi giocare a FIFA? ma c'è dimmi diverso vabbè comunque allora magari lo faremo anche con Emil e comunque ci sarà probabilmente anche il gameplay di FIFA e comunque se il derby sai cosa ti dico? tu cambi canale per mettere video di FIFA perché il canale non si chiama Minecraft si chiama Laura Dondinella quindi non romper 5,6,7,8,9,10 oh guarda che stai perdendo colpi c'è nel senso sto andando lento lo sai che sono andato anche a tremere il bottone vero? no dico stai perdendo colpi nei miei confronti si sto perdendo colpi non mi vuoi più male aspetta che devo cagare ma l'hai fatto almeno il giro del del mondo? si si ah visto che anche il mondo aspetta io sto scherzando il mondo è cosa? niente visto che anche molti ce l'hanno scritto si ce l'hanno chiesto Emil è seduto lì ok? è seduto lì e io sono seduto qui vedete? questa è la mia facciamo così è la mia postazione da ultra nerd ma siediti no? ma che mi siedo? allora questa qui è la il posto di Raul questo qui è il mio vabbè io mi accontento perché tanto è lui il padrone di calzino non so perché e questo qui è la sua tastiera super figa vorrei dire è della riser mouse incluso e cazzo potremmo fare il video doppio sai che figo senti mettilo tu al di nuovo posto perché si va allora dovrebbe essere ma quanto siamo deficienti da non lo so ma adesso anche col video da 1 a 20 anche col video poi vedi io mi scasso no no ma è è spettacolo sta roba è spettacolo no ah ho visto che era a 7 minuti quindi si più o meno dovrebbe essere giusto e meglio se ne chiamo no aspetta Raul ma è vero che non è triangolare è rettangolare sta roba non è quadrata eh si alla fine l'avevi fatta te allora facciamo aspetta pe 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 fammi pensare fammi pensare no perché lo fai cazzo ma così viene benissimo ma sono un genio ma dimmelo dimmelo sei un pirla lo so no invece penso che sul cioè offline sul mio server a casa che non è un server perché su offline non è un server sto facendo un palazzo di vetro troppo figo te l'avete detto 8 volte però voglio anche dirlo qua è una roba strepitosa magari se troviamo la foto le alleghiamo 1 2 3 4 4 punte sono 4 punte a me qua sembra di averli messi i blocchi a naso non è che io ho venuto capobastone chi ha distrutto il mondo e offline cioè in locale si lo so ma ti sta prendendo del culo uuuuuh vieni non mi vuoi più bene vemmi non mi vuoi più bene che ca**o stai facendo vieni ci voglio bene emil ma vaffanculo cazzo uuuh che è nemmeno voglio più bene ma è mia fidanzata oggi è tornata la mia ragazza perché stava male e comunque la mia anche la mia la mia non se l'è mai andata Comunque continuiamo Stava male Quindi vorrei dire Cioè volevo solo dire Sì abbiamo capito Volevo salutare Mi raccomando devi andare a vedere il video Lei è una di quelle che L'aspettava di più Quando è stata a casa E' una di quelle che l'aspettava di più Dao quando metti il video E' lei E' ovvio che le piace Meno male Ma le faccio solo perché ci sono io Infatti mi chiedeva Ma c'è sempre Emi o c'è solo te Ma baffanculo scusa C'è sempre Emi o c'è sempre Emi Ah che palle Che merda Comunque qua Poi il problema Ah se aspetta un attimo Se l'audio è sfasato E' colpa di Emi Se l'audio è sfasato Perché scusa? Così perché In realtà sarebbe colpa mia Ma la colpa è da te No Raul Adesso tu spiegami Che cosa servono le finestre? Le finestre qua nella scala? Sì Che dobbiamo coprire tutto Per bellezza Ma viene coperto Ecco Aspetta un attimo Sono ancora qui Sono ancora qua E' già E' già Che palle Finestre e scale Ah sono arrivato Dove sei? Come sei? No le finestre Nella scala qua Eh cosa stai? Ma sono per bellezza Cioè Eh già Ha ragione In realtà io Che comunque devo lasciare così Proprio perché Non hai voglia di Di farlo No e Emi Che te sono? Eh? Che te sono? E' 28 Quanto dura il video? Ah ecco E' Allora Allora Sono 13 minuti e 44 secondi 13 minuti e 44 secondi Allora direi Vieni un attimo a dare questa cosa Poi salutiamo E poi stoppiamo Spariamo un altro video Perché noi ne facciamo 4-5 Al giorno E' bello che voi Credete pure Che ne facciano giorni diversi La cosa ti vede a te Tutti i giorni Dovete fare il video No no ma noi ne facciamo 5 In un giorno Poi ne metto Uno al giorno Quindi sembra che lo facciamo Tutti i giorni Non si fa le cazzate Vieni qua Ma devo venire A vedere da te Mi vedi Mi vedi Ciao qui Ciao 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 Allora Va bene No vieni qua Allora Guarda vieni Le scale qua Vengono Vengono Dentro il faro Cioè non puoi fare Le scale Allora non va bene Le rifaccio poi io Le fai uscire da fase Mai Eh si ma Lo tolgo anche Tu finisci il faro E poi lo faccio Che passi davanti Ci impiegherò un botto di tempo Guarda che cazzo Di lavoraccio Allora Teoricamente Dovremo stoppare Teoricamente Dovremo stoppare il video Sai Amico Ah giusto Allora vieni qua Che Aspetta che Non riesco a capire Vengo lì Io mi metto vicino a te Allora Facciamo così Tu vieni su Minecraft Vicino a te E io vengo vicino a te Su 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 Minecraft Sulla realtà Allora Mettiamoci in qualche posto Per salutare Vieni qua Vieni qua Ah di Tan 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 Dov'è che Ah bello L'isolo Allagato Allagato Allora è stato internet Allora Guardiamo sta Minchiata di faro Che stiamo facendo Prima o poi Ce la potremmo fare Della verità L'opera mi aveva dato Un'idea Però non me la ricordo più Stupendo Vieni qua Vieni qua Aspetta che vengo lì Siete che mi metto vicino a te Vicino vicino Ciao E Boh Oh scuola Mi sono entrato dentro Ehm Vabbè Forse Aspetta Ok Ciao telecamera Ciao telecamera Ciao telecamera Ok Bene Allora Con lo sfondo Del faro di merda E anche lì Gli hai i tuoi capelli Mannaggia a te Beh Molto bene Allora Guarda lì Piuttosto di Che cazzo fai Facciamo Testa di minchia Guarda l'altro cane Qualcosa Che è meglio No Stavo Stavo guardando Cosa Posso registrare al massimo Ancora un minuto e 40 secondi Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Allora Ci vediamo tra 5 Cioè volevo dire Ci vediamo tra 5 minuti No il prossimo video lo faremo tra 5 minuti Ma Però lo caricheremo probabilmente dopo Perché grazie alla mia super connessione di Esatto Mi tocca Mi tocca Caricarne almeno Minimo Cioè massimo Uno al giorno Quindi No boh Vuole vedere No Allora Mi stanno cadendo Fatta Dobbiamo trovare una frase d'effetto Per la chiusura Ok Questa qui è la frase d'effetto Frase d'effetto In questo punto qua Rallenta Quando noi facciamo così No aspetta Non staccare ancora Tra 2 secondi Facciamo così E tu rallenti il video Quando lo modifichi Vai Ok Ok